Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Squadbuster Arriviamo a 1000 like, condividere i video e scrivete al canale Se no vi lascio il hashtag Squadbuster Qua sotto nel momento di pericere un cuoricino andiamo avanti con questa nuova puntata Oggi andiamo a vedere l'unità più rotta di questo gioco A mio parere non solo Intanto mi prendo tutti i bonus della giornata Vediamo un po' nello shop che c'è Robina Free Non ho giocato tantissimo ragazzi Lo so, ho tantissimi giochi da portare Come sapete porto anche altri contenuti particolari L'unico problema adesso è che dovrò riuscire a fare pure queste missioni nei prossimi giorni in velocità Allora andiamo a vedere qual è l'unità che praticamente è più rotta del gioco Il nostro mi dico, boh, ok È veramente spaccato malissimo È un'unità che rompe veramente le scatole E che ci dà veramente un sacco di vantaggio Allora non andremo più a fare unità per unità Perché non abbiamo il tempo materiale Visto che sta per finire anche la beta tra qualche giorno Quindi a questo punto andiamo direttamente a guardare i personaggini importanti Andiamo a farci una bella partita E vediamo di provare questo boh Anzi guardiamolo bene nella descrizione per capire quanto è rotto Boh toglie il 100% più di danni contro i mostri Quindi se lo andiamo a potenziare bene Distruggiamo immediatamente i mostri E in più facciamo tantissimi danni ai player È veramente rotto ragazzi Direi di andarlo immediatamente a provare Via, entriamo in gioco Allora andiamo a vedere se riusciamo Fusion start Boh fusion start Boh per 3 Ottimo Enorme Io direi che mi porto più velocemente possibile al centro a questo punto Col boh così dovrei One shottare pure questi infatti Quello è successo Olè Allora Il primo Così almeno ce fa da tank Bene Vediamo un po' Qui sono diversi nemici interessanti Pure il kaiju sarebbe interessante Ma adesso come adesso la vedo un po' dura un kaiju Allora questo lo eliminiamo sicuro 100-100 È una velocità estrema Con l'el primo e No ma perché attacchi là? Attacca lui Niente Ok lo buttiamo giù Se è sicuro proprio Eccolo qua Bam Allora il nemico Ciabbo uguale Eh porca miseria Meglio che me do Allora io non capisco come fanno loro a essere così tranquilli Ok Allora un altro il primo Anche se un altro boh mi avrebbe fatto comodo Allora vediamo un po' Il kaiju lo dovrei riuscire a eliminare 4 3 2 1 E abilità Ok Nessun problema Allora io vorrei fare una cosa interessante Un altro boh Così lo devastiamo in maniera velocissima il kaiju Fatto E siamo secondi per ora Niente di eccezional ma molto buono Ok Ehm Altro boh Facciamo proprio esagerazione Sul boh Allora siamo a 13 E siamo secondi per ora Io adesso vado a prendere tutti i bot Ok Quello lo dovremmo eliminare dai Guardate come va giù Quello volevamo fare noi Primi Vai così Conquistiamo più punti possibile Prima che arrivano gli altri Ok Certamente quello è più alto di noi No è più basso di noi Quindi lo potremmo pure eliminare Non so perché delle volte si frizzano i personaggini Cioè non fanno le azioni che dovrebbero aver fatto Ok Un colt Quindi siamo belli aggressivi Con i robotoni Vai così Menateglie Bravo Vale Dai rimaniamo primi Se ce la facciamo Ok Giustamente questo va contro la torre che è stata evocata prima Quindi diciamo che un po' ci da una mano quella torre Ok Altro guy giù per noi Questa la stiamo vincendo di farm Raga 100-100 No È riuscito a jumpare Porca miseria E niente Ne devo allontanare Siamo 45 Niente male Ok Io farei un curatore Tanto questo adesso Ormai I punteggi L'abbiamo fatti Quello è un 5 lì Ma di caso Noi stiamo andando di Aia Ole Niente male Siamo ancora primi Allora Io metterei un altro bow Giusto per bellezza Fusion del bow Abbiamo doppio bow Fusion Eh Ok Ole Allora questo riesco a tenerlo Questo uguale Ok Guardate quanti punticini Abbiamo una free perché non so Ok Allora ci prendiamo il centro Lo conquistiamo Grazie Ok contate che ho due bow giganteschi Ok E mi tengo il centro Che è quello che dà più roba Ok Diciamo che siamo messi discretamente Potrei anche slowwire i nostri nemici Se è la prima posizione me la tengo Anche strettissima Ok Niente male Siamo a 29 Per uno non riesco ad arrivare a 30 Guarda che maledetti Per uno Oh il kaiju Che mi salta sulla faccia Paura Che c'è mancato Allora Scheletrini me la date una gemmina Bella Altro bow Questa è la Vittoria dei bow Primi in classifica ragazzi Guardate quanti sono rotti i bow Sono rottissimi Altra partitina Vediamo se riusciamo a utilizzare il bow Come l'abbiamo fatto prima Intanto non me l'ha dato E già è un problema Io direi di andare di Greg iniziale E va a fan beccolo però Subito con i bot a fianco Oh ma tutti gli alberi C'hanno un bot a fianco Ma che è successo Ultimamente Ok Non riesco a prendere un albero Regà Nulla Non mi lasciano l'albero libero Vabbè Allora Rompiamo i robottini Perché se non rompiamo i robottini Non riusciamo a prendere Almeno un bonus per le vacce Robottonella davanti Ok Un colt dai Allora Vediamo un po' Se ce la facciamo allevarlo Almeno Anche se Greg Prende un sacco di botte Mi serve assolutamente niente Altro robottini Stanno tutti sotto all'albero Regà Cioè tu mi fai il Greg Per farmare gli alberi E poi sotto ogni albero C'è il robot E' un po' Esagerato Poserei dire No? No? Allora Un altro colt Lo so che Greg Mi velocizzerebbe Ho capito però Santa miseria Eh Sono tutte unità buone Io invece ho due colt Che gli dico Me le sbatto al naso Allora Curatore Lo so che potevo prendere la witch Ma curatore Mi serve il curatore Devo sperare che mi arriva un bel bo Intanto l'albero lo prendiamo Grazie Mi fa risalire un pochino E questo è buono Allora Siamo a 12 Eh Siamo un po' a corto Sinceramente Oh Un goblin Quanto sarebbe buono il goblin adesso Bam Ok Altro colt Fusion del colt Ragazzi Abbiamo un colt fuso Che fanno male I fusi Allora Siamo secondi Posso prendere un'altra robina Bo Vai così Quindi abbiamo farmato E poi abbiamo Scelto di andare anche di Bo Ok Greg Convengono sempre fare le fusioni Ragazzi Ve lo dico Già ve l'avrò detto mille volte Questo gioco conviene Fare le fusioni Per Fare Meno spazio occupato Vai così Guardate come va giù Benissimo Alberello Quindi Altri punti per noi Tante belle monetine Arriviamo a 22 Mi vado a prendere la cassa Prendiamoci subito la cassa Curatore doppio Allora Questa è una Shelly Singola Polina Penso che vado a giù Che è un piacere Peccato che se ne vuole scappare Ok Allora Non so che cosa sta facendo Il nostro avversario Allora Prendiamo questa robina qui Potenziamoci il più possibile Alberello Ne servono dindi Grazie No le Niente male Siamo a 18 Questo lo dovremmo eliminare velocemente A le 21 Devo arrivare a 25 Raga Pazzia Ce ne vuole eh Nonostante ci abbiamo i bossini Interessanti Da eliminare Ecco le 25 Eh però c'è pure una torretta là eh Altro colte per noi Ok Va bene così Questo lo eliminiamo Ci portiamo a casa Ah Al centro c'è un boss Interessante No Lo so fatto a chiappa pieno Eh vabbè doppio laser però Sulla faccia così Della mega mall Ok Allora io prenderei anche questo bonus Non so perché l'ha tirato lì Me do Me devo da Ok L'avversario non so perché ha il corso Così come fuggire via Ok grazie Allora Non stiamo Primi in classifica assolutamente Siamo neanche quinti No siamo quinti adesso Allora Vediamo un po' se riesco a buttare giù il kaiju Almeno prendiamo qualche punto Ok Il kaiju è nostro 100 100 Ah C'è pure la mall e mezzo però Ok Allora Kaiju preso Niente male Medico E direi di provare la mall a sto punto Dai così Eh però Ci sta menando malamente Uh Nulla 156 quello è No è T'enormi regà Ne che gli dimo Fatemi passare che devo menare quelli Niente Non riesco a Uh Terzo Terzo Recuperato alla fine Vabbè dai Andata bene Potenziamo ulteriormente Boh Gli diamo la star boost Ok Damage ton monster Improved del 10% Live il lappone E adesso è diventato veramente ghiotto Andiamolo ancora a giocare Allora Sono rientrato in ritardo Perché è crashato Giustamente È una beta Quindi Ogni tanto mi dà la schermata nera E non mi parte la partita E stiamo su ipad Quindi Non sto parlando di Scherzetti Insomma Stiamo parlando di bug android Allora Due bow Ok Vediamo un po' Siamo partiti molto in ritardo Vediamo un po' se riusciamo a recuperare qualcosa Allora siamo primi Non so come sia successo Visto che siamo partiti in ritardo Però per ora siamo primi Terzo bow Fusion bow Ok Vai col fusion bow Allora adesso niente più bow Colt Cerchiamo di variare Anche perché un fusion bow Basta e avanza Per farmi queste unità Ok Allora mi sa che qua ci sono i goblin E questo è buono Ok Vai così Siamo ancora primi Grazie al goblin In pratica Ok Ci abbiamo il turbo overlord Ehm Chiamo di rog rider Hog rider Che rog rider Ora cambio il nome pure alle unità Ok vai Facciamo il doppio colt Se ce la facciamo Facciamo un bel po' di dannini Ehm Vabbè a sto punto Ritorniamo andare per forza di bow Perché mi ha costretto Poteva andare pure di dynamite Ma Non mi conviene proprio Ok Vai così Questi li elimino instant Quindi è ottimo per noi Pure quello lo dovremmo eliminare Abbastanza velocemente Olè Portata a casa Ehm Altro gold Doppia fusion Vai così Per ora siamo primi Non voglio cantare vittoria Questo gioco Cambia velocemente ragazzi Cambia velocemente Curatore Mi serve il curatore assolutamente Importante il curatore Ok Questi li eliminiamo subito Olè Come c'è a prendere No l'altra cassetta ancora no Perché siamo a 15 Siamo ancora primi Questo è buono Ok Altro boss per noi Vai così Questo lo buttiamo giù Intanto la gente sta venendo eliminata Da qualcun altro Che potrebbe recuperarci Molto velocemente Hog rider Quindi potenziamo Anche l'hog Allora noi stiamo gestendo il centro Ma c'è uno che sta eliminando tutti Quindi forse c'ha la combo Della vita Che li sta eliminando A bestia proprio Ok Noi siamo primi Per ora Doppio curatore Vai così Potenziamoci il più possibile Le prime cose possiamo inventarci Olè Per ora siamo belli Giozzi Allora più che altro I nemici mi stanno a diminuire Perché sto eliminando tutti i boss del centro Ok final stretch Ok lui lo possiamo eliminare Anche velocemente Olè Gemmine Perfetto Alto potenziamento per noi Un barbaro random Che non possiamo utilizzare da nessuna parte Ok Allora quello è Un nostro bonus Grazie Non te lo lascio Manco Te cala Davvero Olè Cassa free Medico Medico busted Ok Lui se ne va Il centro è nostro Mi sono potenziato apposta Per farlo scappare Peccato che mi sta dando Gemmine Ma non mi sta dando Quello che mi serve Ok Mi serviva una Gemmina Ragazzi Una Dammi una Gemmina Ok Questo lo elimino 100-100 Vai Olè Un altro witch Facciamo variazione Olè Lo dovremmo boostare Ok fatto Vai Altro curatore Potenzia Potenzia Devasta Fantastico Fantastico Enorme il bo È enorme Allora ragazzi Abbiamo provato questo benedetto bo Questo bo è rottissimo Quindi io penso che Continuerò a potenziarlo A dismisura Lo facciamo diventare Veramente enorme Perché ci può portare Veramente tante vittorie È da bilanciare E il bello è che abbiamo fatto Tutte le missioni Ne manca una sola Finisce in top 2 Due volte Per sbloccare Nita Quindi casomai Nel prossimo video Se ce la facciamo Ci proviamo anche Nita Ok Intanto ci prendiamo I bonus del pass Con grande piacere E giustamente Abbiamo da potenziare Il bo Ulteriormente Che diventa enorme Lo giocheremo In pratica Di media e di base Questo personaggio Insieme agli altri Così almeno Andremo a divertirci Un pochino Riamami Le like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se novi Lascia l'hashtag Squadbooster Qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E bo Secondo me E non solo Secondo me È l'unità più rotta Di squadbuster E necessita un po' Di bilanciamento So E' l'unità più E' l'unità più